Gian Lorenzo Belengini, un 3-0 della Lube, ottenuto con quale formazione? Lube 1, Lube 2, Lube 3, Lube che vince non si cambia? No, ma non c'è una Lube 1, Lube 2, Lube 3. C'è una Lube, io mi ripeto, perché purtroppo le domande mi stimolano in questo senso e quindi non posso fare altro che ripetermi, perché è quello che penso, è una squadra che ha diverse possibilità, ha giocatori di qualità, gli allenamenti dicono delle cose, la necessità anche di non solo dare seguito a quello che sono gli sviluppi degli allenamenti, ma anche dare campo a certi giocatori perché ne hanno bisogno, perché per poi farsi trovare pronti bisogna che un po' di partite le facciano, tutte queste cose unite fanno sì che si veda delle volte una squadra, delle volte un'altra, nel senso che ci possono essere delle rotazioni. Brava la Lube in ricezione, questa sera Ollatina non vi ha impensierito, perché a leggere dei numeri Grebennikov, Kovar e Guantorena garantiscono un'ottima rendita. Sì, ma la Lube è stata brava in ricezione anche in altre partite con altri assetti, non è solo questa sera, questa sera lo è stata, non solo in ricezione, perché ha fatto una partita buona in tutte le fasi del proprio gioco e quindi credo che non sia stato solo l'aspetto della ricezione che è da sottolineare. È stata una squadra stasera che ha difeso anche parecchio e non solo Grebennikov, che è un difensore straordinario, lo sappiamo, ma diversi giocatori hanno distenuto delle palle importanti, ci sono state tante azioni lunghe, che ha sviluppato varietà nel gioco d'attacco, che ha fatto una buona gara complessivamente. Diceva Sokolov, sapevamo che Latina venendo da tre successi ci avrebbe potuto impensierire, quindi è stata preparata benissimo questa partita, perché visti i parziali non è che abbiamo impensierito molto Latina. No, ma noi le prepariamo tutte, facendo molta attenzione a quelle che sono le caratteristiche sia tecniche che tattiche delle squadre avversarie, sia anche il momento che le squadre vivono, perché quelle sono informazioni che indicano un pochettino, sono un po' il termometro anche, dobbiamo prepararci a sapere che squadra abbiamo dall'altra parte della rete, un conto è trovare una squadra che arriva in un momento di grande negatività, un conto è incontrare una squadra che dopo un giro nell'andata di grande difficoltà, non venne non riuscita a entrare nella Coppa Italia nelle ultime partite, aveva fatto vedere una faccia diversa e quindi bisogna essere pronti a trovarsi di fronte a un avversario così. Anche perché se non ci si prepara anche a queste cose, poi quando inizia la partita e ci si trova nelle difficoltà, non si è pronti a viverle e a trovare le soluzioni per superarle. Ora si va a Sora, l'Ube capolista che vuole chiudere nel migliore dei modi quest'anno? Certo, ora si va a Sora e adesso si pensa a Sora, un'altra partita da impostare bene mentalmente, perché è una squadra che è diversa rispetto al giro nell'andata in termini di non solo di come gioca, ma anche di fiducia. Una squadra che ha fatto diverse partite facendo risultati anche con avversari importanti, che sulla carta venivano indicati come superiori a loro, una squadra che ha lottato su tutti i campi, una squadra che è in crescita, una squadra che sul suo campo, che poi è un campo molto caldo, molto particolare, come spesso succede ai primi anni di Superlega, il primo anno di Superlega c'è un grandissimo entusiasmo, soprattutto un palazzetto così piccolino e quindi bisognerà essere pronti a sapere che ci sarà un'altra battaglia da fare prima di potersi dedicare a qualche giorno di riposo e al Capodanno.